...meccaniche per il futuro del territorio di Gionvino, per l'Italia dei Mesti, Adepi, Magona, Darmine, per le imprese di indotto, per dare un futuro alla prospettiva, manifestazione ore 9... ...oggi, 2 dicembre, per il futuro dei lavoratori, di quegli attualmente... ...percare il rispetto del campo industriale... ...maurica N가요? ...obbligoio! ...bligoio! ...obbligoio di Pino Domani... ...maurini... Siete cassa integrati? Siete sicuri? Penso che ci resterete a lungo. Siete cassa integrati? Siete sicuri. Oh Antonio! Ci scudo. Oh ciao! Ciao! Ciao a fare!